Allora, te chi sei? Mi chiamiamo Yuri, Yuri Monti e a chi c'è il fiolo? Ho messo il fiolo Nello della Valla e la Silvana, la straniera che la chiamava a sé perché la veniva da Santa Svia e la scuoleva solo in italiano Ha tu detto che gli ho detto? Ah, io ho detto l'appuntamento al 9 della mattina sotto la piazza in un bar di canton Aldoni gli è sempre in ritardo ma stai dicendo che l'importante non sbaglia un sgonto la era là in sd la aveva consumato in fondo la tazzina a forza dei trenta con le cucchierelli Ho messo in sd e ho guardato le mani e poi ho guardato i occhi mai guardato i occhi di una donna quant'è da dire quella di importante o si intreccia la bocca o si appena i occhi e dì dal gran cazzo hai voleva dire che era colpa sua? ma non è vero hai voleva dire che era colpa a me ma non è che questo è vero hai voleva dire che era colpa del suo marido del marido di lui come l'ha messo tra il brazzo lei è venuta in te bar la sera e dice Dì Mario questo è il trenta risultato ma hai tenuto se hai scoperto i occhi se hai chiesto di giudicare se hai chiesto di fronte ma avremmo che è che si è non c'era Allora, c'è il fatto, c'è il fatto, che mi ha detto da parmenca perché ci sono tutti qui. Ah, ma io dovevo in te barche, io venivo sempre in te barche insieme, oh, e il tampone? In Scorpio. Quello che guidava diceva che la colpa era cliata o l'aveva distratta. E quello che era finito diceva che la colpa era su o si era distratta. E scormica più. E me è un pizzo, un pizzo diretta per me, in quella mia pandina.